Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il nostro programma di approfondimento. Da settimane ormai l'argomento principe dei primi titoli dei giornali, dei media, delle televisioni e ovviamente la mafia. Cosa succede alla mafia dopo la cattura di Matteo Messina Denaro? Per parlare di questo tema, anche cercando di fare un poco di retrospettiva, abbiamo qui con noi Carmine Mancuso, già senatore della Repubblica, ma soprattutto oggi in veste di presidente dell'Associazione delle Vittime Dimenticate di Mafia. La chiamo senatore? Dobbiamo fare finta che non ci conosciamo? No, non ci conosciamo abbastanza bene. Andiamo direttamente sul tuo. Carmine, che succede nel mondo di Cosa Nostra, da un osservatore privilegiato di chi, come dire, come te, ci ha rimesso un pezzo di famiglia, perché vorrei ricordare a tutti che Carmine Mancuso è il figlio di Lenin Mancuso, il braccio destro di Cesare Terranova, giudice ucciso dalla mafia insieme appunto a Lenin Mancuso nel 1979. Diciamo che negli ultimi tempi, cioè quindi nell'ultimo ventennio, presso a poco, sono un trento addirittura, perché visto che i lati tanti durano in carica, non sono trent'anni, quindi diciamo dall'ultimo trentennio ad oggi abbiamo conosciuto la ferocia della mafia dei Corrionesi, i cosiddetti Corrionesi. Chi sono i Corrionesi? Capostipite era Luciano Liggio, quello storico, che diventò il numero uno per chi uccise Navarra, il dottore Navarra, che era lui con il quale presiedeva le attività mafiose del Corrionesi e dintorni, e poi a mano a mano i successori che furono Dottor Riina e Provenzano. Era rimasto, per quanto ci dicono, ci fanno sapere, l'ultimo rampollo della covata, che pur non essendo Corrionesi, l'ultimo esponente della cosa nostra di ordinanza Corrionesi, no? Perfettamente, che pur non essendo Corrionesi, ma essendo Trapanese, ma la Trapana era molto legata pure a Corrionesi attraverso il padre Ciccio Messina Delaro. Quel tipo di mafia quindi, insomma, per loro, per disgrazia per loro, è sfinita. E' fortuna anche per noi tutto sommato, no? Quindi non è più la mafia stragista, non è la mafia voluta, come loro l'hanno interpretata, con i delitti, i cosiddetti eccellenti. Ti posso interrompere? In realtà, la mafia stragista è un periodo di tempo che va dal 92 al 93. Poi, in realtà, con Provenzano arriva la strategia della sommersione. E Messina Delaro, nonostante sia un protagonista delle stragi in prima persona, lui era quello che doveva fare saltare la camionetta dei carabinieri allo Stadio Olimpico, attentato che poi, diciamo, segna la fine della strategia stragista. In realtà, anche Messina Delaro, come dire, è molto sommerso. Pensano più ai denari, tornano, come dire, a una vecchia... Però, Piero, diciamo una cosa, che questo è quello che ci fanno sapere, ci dicono, attraverso anche le notizie che filtrono dagli apparti investigativi, dai palazzi di giustizia, ma io mi sono sempre chiesto, ma è realmente così? O c'è qualcosa sotto? Cioè, nel senso che, vado, cerco di essere... Vai, andiamo ai materassi, così... Allora, diciamo, normalmente, a parte la tua elevata professionalità, esiste ancora la figura del giornalista investigativo? I Mario Francese, ce ne sono ancora molti in circolazione, quelli che vanno a cercare la notizia e vogliono anche spiegarsi perché accade quel fatto. Esiste un Tommaso Besozzi? Poi magari spieghiamo chi è Tommaso Besozzi. Tommaso Besozzi è il cronista dell'Europeo che di fronte al cadavere di Salvatore Giuriano disse, l'unica cosa certa è che è morto. O sbaglio? Perfetto. E perché lo disse Tommaso Besozzi? Perché a noi ci hanno sempre propenato la favoletta e fu ufficialmente confermata... La narrazione consolatoria, come si vuol dire. Esatto, fu confermata dal ministro Scema, ministro dell'interno dell'epoca, che Salvatore Giuriano, dopo sette anni di latitanza, dopo aver interversato in lungo e largo, soprattutto nel parlamentare, ed essere stato dominato il re di Montelepre per le sue attività criminose, era arrivata a circa 500 omicidi, tra altri banditi, gente comune, mafiosi e tutori dell'ordine purtroppo. Giuliano era quasi imprendibile. A un certo punto però decidono che ormai l'epoca di Giuliano doveva essere circoscritta e doveva finire. E anche qua storia di donne, no? Sempre nel cortile dove lo trovano perché c'è una sua liaison sentimentale. No, il cortile dove lo trovano è perché lui, gli ultimi sei mesi di vita, li passa ospite da tale avvocato Di Maria. Avvocato Di Maria. Avvocato Di Maria, che io poi conobbi, che quando seppi che fosse ancora vivo, che io ritenevo che l'avvocato Di Maria era morto. A un certo punto leggo su un'intervista rilasciata da Di Maria ad Alfio Caruso, sull'Espresso, che Di Maria era vivo, salto dalla sedia, mi metto subito in contatto con un amico di Castelvetrano. Da Castelvetrano a Castelvetrano. Esatto. E all'altro punto mi catapulto a Castelvetrano, prendo appuntamento con la Voto Di Maria e la Voto Di Maria, dopo che ci siamo conosciuti e ci siamo anche frequentati, mi confermò che Salvatore Giuliano aveva passato gli ultimi sei mesi della sua vita ospite in casa sua. Ma dico, scusi avvocato, ma che faccio? Anche il titolo. Dice, in effetti, mi fu imposto dal capo mafia di Castelvetrano, che all'epoca era tal Marotta. Il capo mafia di Castelvetrano si chiamava Marotta, regolarmente appartenente oltre che alla mafia, alla massoneria. E io ho sempre avuto, lui me l'ha sempre negato, però io ho sempre avuto il sospetto, anzi la vostra certezza, che anche Di Maria fosse massonato. Maffiato. Ecco, perché noi dobbiamo pure considerare che la mafia è potente, è importante. La mafia ha un rapporto stretto, diciamo quasi un connubio con la politica, ma quello che è la placenta, dove sta mafia politica, è la massoneria. Diciamo che la massoneria deviata, chiamiamola deviata, perché poi ci guerriano, c'è Bisi che ha la guerriera fa, la massoneria deviata è una sorta di camera compensazione che fa un po' da tessuto connettivale tra i sistemi criminali, i sistemi istituzionali, il mondo delle professioni e delle imprese. Perfetto, bravo. E allora, considera pure che la massoneria non ha un territorio ben circoscritto, è il mondiale, la massoneria domina in tutto il mondo, da un punto all'altro dei cinque continenti e poi tra l'altro la massoneria ha un insediamento, insomma, laddove c'è potere, laddove c'è gestire e gestione, insomma, del business e dei grandi affari, perché chi è il massone comune? Non siamo sicuri da noi perché non ci prenderebbero mai, ma deve essere il primario, il presidente di banca, deve essere il cardinale, deve essere il grande capitano d'industria, deve essere... Sai, proprio qualche giorno fa ho visto un'intervista di Giulio Magaldi che sostiene di essere, è, perché lo è, maestro del grande oriente democratico e ha rilasciato un'intervista che noi abbiamo riportato qui sulle colonne del blog Sicilia, dove dice, l'ha detto proprio chiaramente, Matteo Messina Denaro, riporto le frasi testuali, è, bassone, è scritto una superloggia internazionale, dalla quale, come dire, vengono... Cioè, uno rimane un po' stupito perché io vado a memoria, ricordo di aver scritto tanti anni fa un libro su mafia e massoneria, dove, insomma, si citava, citando anche Salvo Palazzone di Repubblica, che anche Bernardo Provenzano fosse affiliato alla massoneria, sono tutti... C'era una loggia, una loggia qui a Palermo, che fu scoperta a metà anni 70, via Roma 391, dove... Stessa sede del SISD, stesso palazzo del SISD, a che tempi c'era il SISD del generale Miceri, dove... Non era ancora SISD, si chiamava in un altro modo, SID, sì, sì, e comunque, insomma, che... Terzo piano, servizi segreti, secondo piano, loggia Camea, se ho sbagliato, bravo, sì, e... La loggia Camea, Armando Dias, Camea, sono varie loggie che confluivano, confluivano, ma la Camea era il compendio, poi, e c'erano i più alti responsabili delle istituzioni palermitane, insomma, della regione siciliana... Però non successe quasi nulla, in realtà. Non successe niente, perché indubbiamente, insomma... E ricordo che poi, fino a metà, ai primi anni del 2000, molti esponenti di quelle loggie diventavano personaggi pubblici, deputati... Perfetto, allora io ricordo... Cioè, là ci siamo un po', come dire, questa lotta alla mafia è una narrazione un po' da fiction, si fa veramente la lotta alla mafia o c'è un mondo della borghesia che fa finta di combattere la mafia e poi in realtà ci flerta e ci va a lei? La mafia è la mafia, la massoneria è sostanzialmente borghesia, alta borghesia, molto alta borghesia. La mafia è quindi un connubio con l'alta borghesia, con i poteri forti delle istituzioni, perché i capi delle istituzioni, molti di loro, la P2, sono iscritti alla massoneria e poi, insomma, la monobalanza di quelli che ammazzano i killer, che sono i vari... Scarpuzzedda, cioè, Luca Bacchera e le compagnie cantante. Quindi esistono dei livelli, quindi? Certo, vabbè, Giorgio Chinnici, Rocco Chinnici, voglio dire, scusa, teorizzò il terzo livello, dicendo che il primo livello era quella della mafia militare, quelli che andavano a sparare. Il secondo livello era quello intermedio, quindi della bassa e media borghesia, dopodiché poi c'erano i colletti bianchi, la saborghesia, la grande, insomma, imbritoria. Per esempio, Matteo Messina Denaro, proprio come Idealtipen, come fenotipo, diciamo, è secondo o terzo livello secondo? Ma io credo che... Che scacchiera, nell'analisi di Chinnici, che livello si potrebbe mettere? Allora, io escluderei che i vari Riina, Provenzano, soprattutto Messina Denaro, fossi il capo dei capi, cioè, molte volte... No, no, ma qua non dico che fosse il capo dei capi, ma che livello lo metti in questa gradazione? Io direi la cerniera fra la bassa e la media, ma è il secondo livello, cioè il primo e il secondo livello, la cerniera, per il terzo livello poi sta nei palazzi. C'era una bella raffigurazione, insomma, chiaramente in chiave si mette tutto così, come si suol dire, piuttosto ironica, satirica, più che altro, dove si fedeva a Montecitorio, dopo la cattura di Messina Denaro, furono trovati tre covi, e Savignietta diceva a Montecitorio, scoperti il quarto coro, per carità dico. Vabbè, lasciate, comunque... Tu vuoi sottoporci a querele... No, 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 è una battuta. Ci insegnano gli antichi greci che di ironia non si può... Non si può... Altrimenti, insomma, c'è... Però ovviamente, c'è una cosa, la cosa che fa veramente rabbrividire, è che in realtà comunque lo Stato, tu ne sei testimone in carne e ossa, ha pagato un altissimo tributo di sangue. Io penso ai tanti poliziotti uccisi, gli uomini delle scorte, il tuo papà era il braccio destro di Cesare Terranova. Cioè, è una... Se veramente è come ci raccontava il giudice Chinnici, se veramente è come ci stai ricordando tu, che c'è questo terzo livello di intoccabili e di inviolabili, ma a questo punto non sarebbe più onesto nei confronti... Fare patti con la mafia. E chi ci dice che il patto non è stato fatto dopo lo sbarco degli alleati? Si parla sempre, diciamo, si parla sempre di un clausolo segreto, di questo trattato di pace. Ma le segrete non sono perché sono state pubblicate in alcuni libri. Una buona parte è stata pubblicata. Ma la parte quella più, ancora più impenetrabile, la più spinosa, ancora non è riuscita fuori. Gli americani ogni tanto ne tenono fuori qualcuna, qualche pezzo, ma ancora non abbiamo il... A questo proposito, per fare un po' di bibliografia, suggerisco a tutti la lettura dei saggi del professor Casarubea e di Joseph Maria Cerichino, un ricercatore italo-argentino che è andato a pescare negli archivi del College Americano di Nara Park cartine e cartuzze che fanno venire messe assieme, c'è il famoso atto del 1947, accordi, Favourish Mafia Partnership for Autonomy in Sicily. Visto che tu sei un esperto della materia e sei uno studioso pure di quanto stiamo dicendo, è pericolosissimo l'attributo che gli offri. C'è anche, diciamo, la parte non soltanto statunitense, ma quella inglese. L'inglese. Perché a quanto pare, a quanto pare, per quello che si vince dai documenti storici, gli inglesi sono ancora più penetranti degli americani, in maniera più invisibile. Posso fare un altro spoiler bibliografico? A questo punto, per la parte inglese, i tessi Fasanella sono, come dire, Indubbiamente. Il golpe inglese, poi... Perfetto. Ma è tutta una storia che ci porta nel peggio che ha offerto l'Italia in questi anni, perché c'è un filo di collegamento, fa lo sbarco alleato, il sacco di Palermo, la mafia, la riunione delle palme, poi la strategia della tensione, e poi il caso Moro, e poi le brigate rosse. E se tu fai la somma, tu vedi, insomma, che la stragrande maggioranza dei pupari, non dei pupi, ma dei pupari, cioè i vertici, quelli che tenemolo in fila, sono tutti massoni. Tra l'altro, insomma, tu hai citato il caso Moro, giusto? Vorrei ricordare che durante il periodo del sequestro Moro, il famoso capitato di crisi, preseduto, messo all'interno dell'epoca, erano tutti massoni. C'era Gelli, che facevano pure a Capolino, insomma, ogni tanto, e quindi Moro, è impossibile poterlo trovare, insomma, a queste condizioni. Quindi era stata una presa per i fondelli. Questo che vuol dire tu poco fa, hai parlato dello Stato. Lo Stato è una cosa seria, perché lo Stato siamo tutti quanti noi, ma noi non siamo i rappresentanti dello Stato, noi rappresentiamo noi stessi e quel pezzo di società dove viviamo, c'è la nostra famiglia, il nostro contesto, per quanto riguarda le amicizie. Lo Stato, purtroppo, nelle sue istituzioni che sono sane, è tuttavia rappresentato da personaggi che hanno inquinato le istituzioni e che hanno ammorbato il respiro democratico dello Stato. Però se la mettiamo su questo piano, Carmine, io non voglio giustificare niente a nessuno, però se noi diamo per scontato che ci sia stata questa pressione anglo-americana, in realtà noi siamo una colonia e quindi non era possibile fare diversamente. Noi siamo stati una nazione a sovranità limitata, cioè col famoso patto con un'armistizia firmato a Cassibia che fu firmato da due massoni, c'era anche l'avvocato Guarnassi, l'avvocato Guarnassi faceva riferimento alla loggia di Roma 391, quando furono trovati gli elenchi, alcuni nomi vengono resi noti, c'era l'avvocato Guarnassi che primeggiava in questo tipo di... Era molto vicino a Salvolima, a Salvolima significa Andreotti. Ma forse era più il Salvolima essere vicino a Guarnassi perché in una gerca di poteri io credo che Guarnassi fosse più potente. Guarnassi era l'eminenza grigia, l'eminenza grigia che gestiva... Penso che fosse uno o pochi uomini che poteva parlare a tu per tu con Enrico Cuccia, il padre della finanza. Perché era stato presente alla firma dell'amnestizio e quando si firma l'amnestizio con una potenza arsianiera che ha vinto la guerra che sono gli americani e gli alleati si mandano tre o quattro rappresentanti vuol dire che sono i vertici di quello che è il potere massonico e del vero potere che poi ha preso in pugno l'Italia. Tanto lì c'è una donazione pure massonica perché se non sbaglio il generale Cers Poletti poi ebbe rapporti con l'AP2 attraverso padre Felix Morghi. Era scritto l'AP2. Ma anche la banda Giuliano era infiltrata da elementi massonici tra cui Ferreri che era il cosiddetto Fra Diavolo che era uno delle guotenenti ma coloro di quali poi gestivano pure la banda Giuliano parliamoci molto del bandito Giuliano non altri Giuliano che sono persone di altro tipo. Il bandito Giuliano aveva a quinta elementare era nato nel 22 quindi negli anni 20 con la quinta elementare a Monterepre ma come faceva a gestire tutto quanto l'operazione con una banda che per sette anni ha messo a ferrofuoco il palermitano e che è stata la banda dominante con i rapporti con la mafia quindi vuol dire che c'era qualcuno alle sue spalle che li proteggeva li sosteneva tant'è che Pisciotta cosa disse poi durante il processo di Viterbo quando arrestato fu portato dalla sbarra al presidente della corte d'assise il presidente dice guardi che forse qua c'è confusione in tutti questi anni mafia bandite polizia siamo stati un tottuno unica trinità come padre figlio e spirito santo quindi insomma talmente abbiamo fatto ricostruzioni un poco a spessore a Bolo Cuccello che succede adesso non c'è più Messina Terano non c'è più il mito è iconoclastia mafiosa ora la mafia si sommerge di nuovo e puntano agli affari perché vorrei far notare alcune concedenze ora arriva un'ondata di grandissimi appalti internazionali forse i fondi europei non era il caso che ci fosse più Messina Terano tra i piedi infatti appunto allora abbiamo detto che quel tipo di mafia ormai è finita mafia militare ormai come quell'epoca si è conclusa e come quando finisce la guerra poi c'è il trattato di pace ma non è che stanno prendendo spunto dalla terza puntata della saga del padrino dove sono tutti come dire tutti i laureati tutti i bostoniani dove l'economia è illegale ormai si è trasformata in economia legale tutto quello che viene guadagnato con l'economia illegale quindi giochi online le nuove risorse che la mafia risolve perché non è soltanto gli superfacenti che già hanno un business che è enorme ma ci sono delle cose nuove che noi magari non pensiamo il gioco d'azzardo per dire e questo è tutto quanto ormai il campo d'azione della mafia gli impianti fotovoltaici tutto quello che comincia nell'eolico e lì già però la mano di Messina Terano si è sentita però diciamo questa economia illegale che ancora era quasi quasi al sorgere sarà trasformata è stata già trasformata in economia da illegale che finanzierà i stati finanzierà i governi deciderà chi sono gli uomini che potrebbero essere eletti andare al vertice e quindi l'upgrade altissimo perfetto allora l'omicidio si sta verificando la profezia di Francesco e Gregori mi tocca citarlo spesso per essere il cantatore romano perché in una canzone lui dice legalizzare la mafia sarà la regola del 2000 stiamo legalizzando la mafia e allora l'omicidio non è più insomma necessario farlo sparando con la lupara o quello che è il kalashifo l'omicidio si può con un click col click cioè io ti sposto un ingente quando hai denaro ti metti in ginocchio ti chiudo un giornale ti chiudo un'impresa economica oppure ti provoca un cancro i russi sono molto bravi in questo no? ti stringono la mano ti trasmettono insomma c'è un plasma sono scenari apocalittici per carità il cancro è un male insomma terribile che ormai insomma investe purtroppo nella nostra società per motivi ambientali alimentari però ci sono pure i cancro io voglio eliminare un nemico e sono a quei livelli certo se fossimo noi due non siamo in grado ma a quei livelli a noi ci possono almeno a me mi possono eliminare con una sputazzata non c'è bisogno neanche della poesione ci sono gli incendi stradali dico per carità oggi ma a parte che c'è la rovina dal punto di vista economico e diciamo sociale però c'è anche la possibilità di fare fuori le persone attraverso quello che può essere una battuta prima di concludere perché il tempo al nostro istituzione non abbiamo finito con Giuliano con Giuliano faremo una puntata con Giuliano faremo una puntata perché è importante è emblematico Salvatore Giuliano ma faremo una puntata una ricostruzione facciamo anche un bel documentario io molestamente a parte dico me ne intendo molto perché il mio padre mi racconta molti retroscene mio padre ha detto la caccia a Giuliano questo non lo sapere non lo trovava poi mio padre si rese conto che era impossibile trovarlo fin quando non decise di trovarlo perché insomma ci conveniva a mantenere Giuliano ecco messo in denaro cioè il capo della mafia deve esistere cioè senza il capo della mafia l'opinione pubblica è sbandata perché attraverso il capo della mafia quello costruito che si può fare un racconto mediatico si può fare un racconto e si può e si può eventualmente insomma quanto meno opacizzare quelli che sono gli altri insomma veri mafiosi che indubbiamente insomma sono i livelli più incidenti rispetto alla società quindi poi allora faremo così concludiamo perché abbiamo scelta la metà la domanda che volevi fare qual era? come allora facciamo piccola premessa finale d'obbligo chiaramente il lavoro dei carabinieri non viene messo in discussione assolutamente no un successo investigativo di primo ordine noi stiamo facendo una riflessione di carattere politico geopolitico mi vanto di aver appartenuto alla polizia di Stato e posso assicurare me stesso la mia famiglia e tutte le persone che eventualmente insomma vogliono avere insomma contezza di quello che stiamo dicendo che le forze di polizia sono sane carabinieri guardia finanza polizia di Stato nonché a polizia municipale e quindi bisogna portare massimo rispetto perché il lavoro il lavoro di un turno che si fa è di un sacrificio con la rischia della vita tratto con pochissime risorse messe a disposizione rispetto a quelle che sono le reali esigenze ma per concludere di fronte a questa evoluzione della mafia tu l'hai chiamata come dice il titolo della puntata la mafia 4.0 lo Stato ha sufficienti strumenti risorse investigative per contrastare e poi c'è la volontà reale di contrastare questa macchina che ha più una forza economica che è militare a questo punto e allora Piero torniamo al punto di partenza lo Stato chi è lo Stato dobbiamo intendere appunto l'ho detto prima chi è lo Stato sì siamo noi lo Stato ma noi siamo quelli che paghiamo le tasse noi siamo i cosiddetti i poveri Cristi come diceva Gian Paolo Panza nei suoi articoli realmente chi rappresenta le istituzioni l'ho detto prima lo ribadisco le istituzioni sono sane perché insomma quello che esiste come istituzione in una democrazia è fondamentalmente necessariamente utile ma chi ci sta a capo se Andreotti diventa presidente del Consiglio e Andreotti poi per sette volte e poi è stato ministro insomma venti volte trenta volte quello che è stato ed è stato uno dei massimi esponenti della politica italiana sia all'interno che all'esterno beh a questo punto chi ci assicura che lo Stato quel tipo di Stato sia immune da questo tipo di è chiaro e allora con questo dubbio che Carmini Andreotti è condannato per mafia intendiamoci prescritto perfetto i dettagli per evitare qualere sono sempre siamo abituati anche a subirne sulla pelle detto questo insomma ci riproponiamo un prossimo appuntamento di approfondimento magari una cosa appuntate possiamo fare una storia della mafia appuntata Carmine te la senti? e quindi cominciamo già dallo sbarco degli alleati da Giuliana laddove laddove insomma si parla dalla prima saggia di Stato tra questa Banda Giuliana portare le ginestre perché lì comincia la storia insomma di questa Italia insomma c'è che è soffocata dal potere mafioso ma un potere mafioso che è gestito voluto e determinato perché se la mafia non esistesse sarebbe un guaio perché non si potrebbe dare alla mafia le colpe che c'è per coprirne le cose che lo Stato deve fare e che non può dire di aver fatto perfettamente con questo dubbio ammoledico e con questa triste constatazione io ringrazio Carmine Mancuso presidente dell'associazione delle vittime dimenticate di mafia perché ricordiamoci ci sono tanti servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto a Cosa Nostra e tutte le forme di organizzazioni criminali che incistano sono incistate nel tessuto del nostro paese e quindi molto spesso la memoria finisce nell'oblio e questo non è giusto e quindi un merito a Carmine Mancuso per l'attività della sua associazione lode e il ricordo a queste vittime purtroppo sono innocenti perché noi dobbiamo mai dimenticare di ricordarne e ricordarci pure che i nostri morti hanno diritto alla giustizia e purtroppo molti di questi giustizia non ne hanno ancora avuto grazie Carmine grazie a voi ci rivediamo presto con questa attività di approfondimento che abbiamo deciso di fare assieme e un caro saluto a tutti coloro che ci hanno seguito sperando di averli turbato troppo rispetto alle cose che abbiamo detto ci siamo vogliono cambiare al canale ma no rimangono qui e studiscono anche la nostra bibliografia mafiosa arrivederci alla prossima puntata di Talk Sicilia grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti